Siamo pronti allora per la prima sfida di questo playoff che vede contrapporsi Genoa eSport e Milan Clash. E allora vediamo chi difende i colori del Genoa eSport, Gabri. Ora invece ragazzi è il turno del player del Milan Clash, Crazy. Bene, li abbiamo visti, sono già pronti alle postazioni, quindi diamo il via alla sfida e la parola come sempre Caster. Immergiamoci nella prima partita di questo winner bracket, Doc, l'abbiamo praticamente presentata in tutte le salse. Gabri contro Crazy, il Genoa eSport contro la C Milan Clash non è sicuramente una partita tra novellini, anzi l'esperienza la fa da padrone. Sì, sono due giocatori esperti che calcano da anni i palcoscenici del mondo eSport di FIFA. È una partita molto difficile, secondo me, da leggere, Sabino, perché abbiamo visto un Crazy che comunque costruisce tanto sulla difesa, sui ritmi bassi. Invece abbiamo visto un Gabri che prova ad alzare il ritmo, prova a imporre il proprio gioco e soprattutto la sua fitta reti di passaggi. Abbiamo rivisto prima nella clip dei best goal quella azione incredibile fatta contro la Salernitana che ti aveva fatto ubriacare davvero una lunga serie di passaggi. Le stile di gioco quindi molto diversi che oggi si scontrano sicuramente è molto diverso rispetto ai gironi, perché c'è di più in palio, molto banalmente. C'è soprattutto la tematica dell'andata e ritorno, perché comunque sappiamo che la partita di andata puoi anche perderla 1-0, ma ok, puoi resettare, non succede nulla. Quindi secondo me dovremo anche vedere come affronteranno i player le situazioni di svantaggio, soprattutto nel primo match, se proveranno a impattare la partita. Questo parliamo soprattutto degli ultimi 10 minuti, se proveranno a cambiare le tattiche, proveranno a gestire magari qualcosina di più anche a livello di risultati. E poi, altra tematica, sono cambiate le squadre, perché a differenza di quanto abbiamo visto nei gironi, i player hanno potuto aggiornare le rose con gli ultimi contenuti usciti su Foot. Prima noi stamattina abbiamo visto quanto ti intriga vedere qualche icon moment oggi. Assolutamente sì, devo dirti la verità che è un gioco, non solo FIFA 22 in generale, FIFA come prodotto calcistico, un gioco in continuo, in costante aggiornamento. E anche per questo devono essere molto bravi i player a scegliere il giocatore giusto al momento giusto. Abbiamo parlato anche in serie di presentazione di quali possono essere le icon che potrebbero fare la differenza. Citavamo al centro della difesa Maldini, un gullit insostituibile, R9 letteralmente ingiocabile. Sarà interessante, Marco, vedere anche tra i 22 in campo se ci saranno delle carte nuove. Sì, sarà curioso studiare, stiamo vedendo subito il Genoa in possesso palla. Sto provando a studiare la formazione, non sembrerebbero esserci novità sostanziali da parte di Gabri, tranne chiaramente la presenza delle versioni moments, perché questo è Ronaldinho e Ronaldo, sono tutti versioni moments. Quindi le versioni migliori per molti amici che ci seguono a casa. Questa può essere anche l'occasione per vederle per la prima volta, visto che sono carte molto rare, quindi è una grande possibilità per magari studiare qualche futuro acquisto. Sono curioso di vedere magari qualche giocatore footbird day, ad esempio Di Lorenzo, in molti player sappiamo che lo hanno portato in lista. Per ora vediamo ancora Darmian, un po' come abbiamo visto durante i gironi, ma chissà, sappiamo che ci sono poi anche le sostituzioni, c'è un Dybala dalla panchina che potrebbe scompigliare un pochino i giochi, insomma ci sono un po' di carte nuove. Cross verso il secondo palo, Koulibaly si era sganciato per il Milan, ho visto già un Mkhitaryan a mezzo alla destra, potrebbe essere lui un uomo in più per Crazy, che ora deve difendere perché è Ronaldinho. Scava per Zlatan Ibrahimović, che supera il portiere, poi si ritrova il pallone lì, il muro del Milan si alza, rischia immediatamente Crazy che complice anche l'ottima uscita di Mkhitaryan, non subisce l'1-0. Qui bravo e fortunato però anche un minimo Crazy perché Gabri forse poteva evitare l'extrapassaggio, soprattutto dopo l'uscita del portiere, poteva andare a concludere, invece ha preferito scaricare il pallone, ma sta attaccando benissimo. Zlatan col Tamed Rosso, non riesce a tirare bene questo pallone, sembrava già tutto apparecchiato. Per il vantaggio rosso-blu, Doc in questo caso è uno dei più classici gol sbagliati su FIFA. Qua però un errore veramente gravissimo, è un errore non da Gabri perché forse il Tamed in quella situazione, con Ibrahimović che si era liberato così bene, tutto solo davanti al portiere, forse non serviva. È vero, se fai Tamed verde hai praticamente il 100% di segnare, avevamo visto un paio di Tamed Rosso entrare qua, invece colpisce male Ibrahimović e Genoa che poteva essere avanti, due occasioni, però si ritrova ancora solo 0-0 e vediamo quanto peseranno queste occasioni perse. Digno prova a andarsene sulla sinistra, guadagna il calcio d'angolo, il brasiliano c'è Ruth Gullit sul punto di battuta, proprio Ronaldinho che potrebbe ricevere, anche se il pallone va verso il secondo palo. Ibrahimović ha sganciato, pronto cross per Coulibaly. Barella al limite, Paolo Maldini, non proprio l'uomo che potrebbe calciare da lì. Coulibaly va da Mkhitaryan, si gira l'armeno, però c'è posizione di offside. Già inizia Cresi a giocare con le tattiche, con lo sganciamento, la parte di Ibra sul secondo palo, per andare con la torre verso Coulibaly. Sì, questo era uno dei più classici schemi. Ibra, forse sai, era talmente solo che poteva addirittura pensare di controllarlo. Questo pallone, provare a calciare lui al volo, ha provato a rimetterla in mezzo, Coulibaly è stato anticipato di testa, parlavi di Mkhitaryan in fase di presentazione, mezzala molto interessante, anche perché ha 5 piedi debole, seguiamo qua intanto. Ronaldo prova a calciare ancora una volta il time, non è quello giusto, allora viene contrato da Coulibaly, molto bene, per ora almeno per quanto riguarda l'ultimo passaggio della difesa della Milan, che invece fa entrare troppo volentieri dentro l'area di rigore la squadra rosso-blu, Gullit, verso Ronaldinho c'era un passaggio tra le linee per R9, non viene esplorato, allora sarà rimessa laterale per il Genoa. Sì, per ora Milan che sta facendo davvero tanta fatica in attacco, soprattutto col centrocampo, vi sembra abbastanza poco presente, stavamo parlando di Mkhitaryan, una delle carte più interessanti uscita nelle ultime settimane su foot, attenzione qui. Perché il Genoa è a tu, per tu col portiere, Ibra esce ancora una volta, Mkhitaryan un gatto sul pallone e quali occasioni stanno diventando tante per Gabri? Sì, un errore ok, due inizia a essere così, tre inizia a essere pesante, sbagliare tre situazioni come queste, soprattutto da Gabri non te lo aspetti, deve capitalizzare il dominio che ha in questo momento sulla partita, perché Gabri sta giocando davvero molto bene, guarda quanti spazi che ha il Genoa di ripartire. Attenzione, Ibra per Ronaldinho, R9 se la sposta sul destro, R9 ancora una volta, Coulibaly sta tenendo da solo la difesa del Milan. Troppi spazi però per il Milan, considerando che siamo alla partita di andata, sono i primi 33 minuti, siamo ancora sullo 0-0, il Milan ha un atteggiamento difensivo con i giocatori che lasciano talmente tanti spazi per andare alti, quasi da squadra che deve recuperare due o tre gol di svantaggio. Ibra sulla faccia sinistra, eccola la mattonella, la esplora, in questo caso facile la parata di Mignan, primo tiro verso lo specchio della porta del Milan, che ora deve difendere Ronaldinho, supera la metà campo, palla al piede, Dinho, R9, extra pass, Ibrahimović ancora, make Mignan, mamma mia, però tutto troppo semplice per il Genoa, perché in tre passaggi sono entrati in area di rigore. Questa sembra un'azione che quasi potremmo aspettarci da Gabri contro di noi, un'azione centrale, muove la palla con gli attaccanti e si libera per andare al tiro, però anche qui non una grande conclusione di Ibra, ma Genoa che sta dominando, ma è la notizia negativa, però è che siamo ancora a 0-0 per Gabri, perché davvero ha tantissimi spazi sulla tre quarti, qui forse è la prima volta che vediamo Di Natale sbagliare un passaggio con la difesa del Milan, brava da anticipare. Barella, ultimi tre minuti del primo tempo 0-0 fra Genoa-Milan, prima gara ad andata della winner bracket della Isera Team 2022, attaccano i rossoneri con la casacca da trasferta, quindi bianca con Koulibaly, Spinazzola ancora per Khalidou Koulibaly, gira tutto verso Darmian, l'ultima azione la vuole, Cresi la gestisce con Darmian, il pallone, finisce fuori con il fischio dell'arbitro, e quindi si conclude il primo tempo, 0-0 il punteggio, l'hai detto prima tu Doc, sostanzialmente la notizia negativa per Gabri è essere ancora sullo 0-0, che è però tra l'altro la notizia più positiva per Cresi. Sì esatto, hai detto tutto te Sabino, uno 0-0, che però è uno 0-0 diverso da quello che ci potevamo aspettare, perché qua ci sono state davvero tante occasioni, 6 tiri in porta nel primo tempo, a questi livelli non proprio facili da vedere, soprattutto 6 tiri in porta con anche 1.8 di expected goals, se vogliamo vedere anche questa statistica, che porta 0 goal segnati, soprattutto da pro di questo livello, molto molto strano. Sì, sì sì, bella la statistica delle expected goals, quindi sostanzialmente per spiegare un po', diciamo che Gabri dovrebbe essere, secondo le statistiche, almeno 2-0, potremmo dire, contro Cresi, dall'altra parte, invece, l'ultimo baluardo difensivo, che sembra insuperabile per il Genoa, è sembrato Khalidou Koulibaly, ogni volta che si trovavano di fronte al giocatore rosso-nero, gli uomini di Gabri non riuscivano a calciare in porta, anche se, due volte Ibra davanti al portiere, o senza time, col time ed rosso, non è riuscito a trafiggere Mignan. Sì, un Ibra, non Ibra, perché da un giocatore del suo livello, di solito ti aspetti che sottoporta, se quando uno pensa ai Bremic, pensa soprattutto al tiro, comunque, che è uno dei suoi fondamentali, dei fondamentali in cui eccelle, invece, errori non da lui, una volta col time ed è vero, quindi può essere colpa di Gabri, ma anche altre situazioni in cui poteva fare, sicuramente meglio, vedremo, se ci saranno anche dei cambi, sappiamo che Gabri è un giocatore, che spesso ha approfittato magari dei sostituti, per dare una svolta alle partite, pensiamo soprattutto a Brian Diaz, chissà se verrà riproposto lui, e vedremo magari proprio Mkhitaryan, nella posizione di Natale, che magari nel primo tempo si è visto, pochino poco, soprattutto con i suoi inserimenti, vedremo, Diego, vorrei sottolineare, la posizione di Mkhitaryan, giocatore incredibilmente versatile, che può giocare, sia da, attenzione, Ibrat, costretto a tornare all'indietro da Gullit, poi Spinazzola e Ronaldinho, triangolo, che però non crea moltissimo per Cresi, deve tornare da Digno, viene fermato, non c'è rimessa, torna all'indietro da Spinazzola, vediamo se riesce a creare qualcosa, cambiando il lato, stavi dicendo su Mkhitaryan? Che lo sta utilizzando, non come mezzala, dove comunque può giocare, ma come attaccante destro, del 4-3-2-1, proprio per sfruttare il suo tiro, abbiamo un Ronaldinho un pochino più basso, in quella posizione da centrocampista, da mezzala a sinistra, dove aveva fatto molto bene, durante la fase a Gironi, poi vediamo che comunque è una squadra molto dinamica, 4-2-2-2, comunque in cui i giocatori si scambiano tanto di posizione, quindi varia tanto i moduli Cresi, Mkhitaryan, la sua versatilità può essere una soluzione, e io credo che anche Gabri inizierà a pensare, secondo me, a sostituire Di Natale. Ibrahimovic non riesce ad arrivare su questo pallone, sarà inserito in realtà molto bene lo svedese, bravo Paolo Maldini in realtà ad andare in surplus, sull'attaccante della Genoa, qui rischia il Milan, ma il pallone arriva comunque a Spinazzola, lancio lungo deviato, sarà rimessa laterale, prima abbiamo visto un possesso palla, un po' troppo sterile, da parte del Milan, sembra quasi che gliel'abbia però concesso, Gabri, di continuare a tenere sul pallone, per invece lui dall'altra parte andare subito in verticale con il passaggio tra Ronaldo e Ibra, che per poco non è giunto in area di rigore. Sì, sembrava comunque in controllo, gli ha detto ok, gestisci di te il pallone, ma non ti lascio comunque spazio per andare a tirare, finché fai i tuoi passaggi al limite, non sei pericoloso, ti copro tutti i passaggi dentro, ti copro tutte le possibili occasioni, e lì molto bene. Gabri, tra l'altro ti sottolineerei che il tempo di Breivin c'è scaduto, mi sa che dopo questo pallone su cui non c'è arrivato, anche Gabri ha perso un pochino la pazienza col giocatore svedese, entra Paolo Di Bala, se ho visto bene, attenzione a lui, perché sappiamo Di Bala è famoso per il sinistro, però in questa versione 5 piede debole, quindi può tirare tranquillamente anche di destra. Tra l'altra parte sempre Di Bala, ma insieme a Federico Chiesa entrano per il Milan, è proprio Chiesa che recupera palla, prova ad andarsi in uno contro uno, va a sgusciare tra due difensori, ce la fa, ancora Chiesa alla fine, rinviene però la difesa rosso-blu, e riparte con R9, siamo molto distanti, parola dalla porta rosso-nera, R9 tiene il pallone, è costretto a tornare all'indietro, Maldini, R9, che sì, Ronaldinho, trama fitta a trovare, tra le linee Paolo Di Bala, eccolo Paolino, la gioia, bagna l'esordio, con la maglia rosso-blu, il gioiello di casa, con Gabri, che esulta alla Paolino Di Bala, minuto 67, si sblocca l'incontro, 1-0 Genoa. Ma qui molto bravo Gabri, perché questa azione parte da lontanissimo, hai visto, Ronaldo non ha provato a verticalizzare, ha aspettato, è andato dietro, è uscito bene dalla pressione, e poi, con Di Bala, si è giocato l'uno contro uno, ma hai visto, a differenza di prima, ha aspettato il movimento del portiere, ha visto che li toglieva, il tiro a incrociare sul secondo pala, lo Di Bala ha avuto il primo, sappiamo di destro, può far male, 5 piedi debole, 1-0 Genoa, Milan che deve però, farci vedere qualcosa di più, e adesso deve stare attento, perché Gabri, forse questo gol lo sblocca anche mentalmente. E vediamo se riesce subito, il Milan a reagire, o invece sarà il Genoa, a ripartire con i motori ancora più accesi, che sì, Gullit, Ronaldo, ancora Luis Nazario de Lima, sguscia tra le maglie rossonere, ancora il fenomeno, Ronaldo dentro, Digno, se la sposta sul sinistro, poi è bravo, in questo caso, Cresi a rinvenire su Digno, il Milan prova a ripartire, ma manca non tantissimo, alla conclusione di questa partita, che vede il Genoa a condurre, per una rete a zero, grazie al minuto 67, la rete di Paolo Di Bala, Darmian, per l'altro Di Bala, quello rossonero, non riesce, però a passare il suo passaggio in verticale, che sì, Totò Di Natale, tra le linee, c'è lo scatto, che non viene in realtà giocato da Di Natale, allora si va da Ronaldinho, che perde un pallone sanguinoso, vediamo se riesce il Milan a reagire, poco meno di un quarto d'ora al termine, Spinazzola, prova lui a salire, altro errore, però da parte della Milan, e non se ne approfitta il Genoa, Franchesi, cerchio centrale di metà campo, Ronaldo, tra le linee c'è lo scatto di Ronaldinho, non viene servito, Paolo Di Bala, contro Coulibaly, che ci mette il corpo, e guadagna il pallone, un secondo tempo, meno ritmico da parte del Genoa, però è riuscito comunque a trovare l'1-0, secondo te, fossi in Gabri, attaccheresti per trovare il gol del raddoppio, oppure aspetteresti la manovra rossonero? Difficile, molto difficile questa domanda a Sabino, anche perché sappiamo che Cresi magari gli basta un'occasione per far male, secondo me deve continuare sul sospartito attuale, senza scoprirsi troppo, però cercare di essere concreto in ripartenza, si può fare la stessa domanda a Cresi, in questa partita non sta girando granché, cosa proveresti a fare? Proveresti magari a gestire il pallone per un ultimo tiro, a scoprirti troppo? Difficile, molto difficile. Vediamo se Cresi gestirà il pallone, andrà all'arrembaggio a trovare il pareggio, Gullit apre per Spinazzola, torna dall'olandese, poi Barella, siamo ai 25 metri, Barella fa fuori l'avversario, R9 non recupera, attenzione perché il Genoa può partire in contropiede, R9 tallonato da Coulibaly, gestisce bene il pallone la squadra rosso-blu, Digno, R9 all'indietro, Gullit forse l'ultima azione, tra molto probabilmente della Genoa, ma perde palla, Gabriel, allora attenzione al Milan, Ronaldo distante dalla porta, gli mangia il pallone che sì, ma sbaglia, poi il passaggio Livoriano, una serie di errori, il pallone arriva a Di Natale, tre quarti offensiva, Di Natale, Scavetto dentro, Mignan, riesce in uscita a tenere il pallone, un minuto di recupero, allora seguiamolo con Chiesa, che prova a partire, non riesce a cambiare il lato, Coulibaly, molto probabile, il fisco dell'arbitro, partita bloccata, in questo caso Doc, perché alla fine, sì, alla meglio il Genoa, ma soltanto 1-0. 1-0, che credo faccia contento quasi Diego, sembra paradossale a dirlo, però per le occasioni che ha creato il Genoa, Diego può essere contento di dover recuperare solo un gol, nella partita di ritorno, e quindi praticamente ripartire da capo, può pensare di gestirsi una partita, con la consapevolezza che deve vincere, o passare con due gol, o per mandare la partita ai calci di rigore. Gabri ha avuto veramente tante occasioni, questo 1-0 gli sta veramente tanto stretto, però notizia importante per lui, ha avuto risposte anche da Dybala, nel secondo tempo, questo è stato importante, comunque poter contare sulla panchina, e soprattutto è riuscito a portarsi a casa il gol, che cercava tanto, proprio per anche sbloccarlo mentalmente, sai, magari andare a questa partita 0-0, finiva così mentalmente, potevi dire, cavolo, però io ho giocato veramente tanto bene, l'avversario, poi magari partita successiva, l'avversario parte bene, vai subito sotto, inizia ad essere un po' in difficoltà, quindi 1-1-0, che può essere un piccolo mattoncino, certo, poteva essere già quasi indirizzata, secondo me questo match, Sabino non so cosa ne pensa, anche il buon Venom, diciamo che il Milan, può essere contento di potersela ancora giocare, ecco. Una partita unilaterale, forse non ce l'aspettavamo, Gabri ha davvero giocato bene, o forse Diego che ne è riuscito a esprimere il suo gioco, ha patito tanto il pressing, il pressing di Gabri davanti ha costruito poco, ha avuto comunque un'occasione con la sua mattonella skill, è riuscito anche a fare il time it verde, non è bastato, il portiere è ben posizionato, forse era un po' troppo angolato, si concordo con te su quanto hai detto, 1-0, che paradossalmente va bene, va meglio a Cresi che a Gabri, perché davvero ha costruito tantissimo, poteva essere avanti con un maggior numero di gol, poteva gestire meglio la seconda partita, invece adesso è ancora tutto aperto, ricordiamo che adesso si gioca la partita di ritorno, dove sarà tutto decisivo, sarà deciso chi accederà alla fase finale, alla final eight, andiamo intanto a rivedere nei lights, e in questa partita Diego dovrà fare di più, Doc, te cosa ne pensi, cosa è mancato secondo te a Cresi in questa sfida? Difficile, questa domanda sembra abbastanza paradossale, perché è mancato praticamente tutto, non so cosa possa, cioè può salvare la solidità di Mignon dietro, perché non posso neanche dirti, può salvare la solidità difensiva della squadra, perché difensivamente ha concesso tantissimo, forse anche davanti però gli è mancato davvero tanto, sia dietro che davanti, è quasi un miracolo che sei venuto 1-0, non può salvare nulla infatti, salva solo Mignon, perché guarda questa azione, secondo me stavamo dicendo, sembrava un'azione che potevamo subire noi, tutto troppo facile, forse è stato, non so cosa ne pensi, quasi troppo facile anche su questa azione qui che stiamo vedendo, quasi troppo facile anche per Gabri, un'azione che forse neanche lui si aspettava di avere così tanti spazi, e forse a volte gli è mancato quell'ultimo passaggio, quell'ultimo tiro, perché è stato tutto troppo facile a dire, ma come, c'è tutto questo spazio, quindi ci ha pensato forse anche quel millisecondo di più, soprattutto sulle uscite dal portiere. Sì, con Ronaldinho, qua abbiamo appena visto in tre passaggi, Doc è arrivato dentro l'area di rigore, cosa che ha sbagliato nel primo tempo, Venom non l'ha sbagliata nel secondo però. Non l'ha sbagliata nel secondo, è partita decisa dei cambi, finalmente Di Bala, lo aspettavamo tanto nella regular season, ci chiedevamo ogni volta se sarebbe uscita una carta di Di Bala utilizzabile, a quanto pare è uscita, perché la prima partita che abbiamo visto di questi playoff è stato subito usato come super sub, ma un super sub che ha fatto bene, perché ha sfruttato al pieno le sue 5 stelle piede debole, cosa che mancava nella carta base. Sì, probabilmente la versione base, questo gol non sarebbe stato in grado di segnarla, c'è stato tanto dibattito tra Melion Di Bala con 5 stelle schillo, con 5 stelle piede debole, per ora diciamo sicuramente 5 piede debole hanno aiutato tanto. Sappiamo cosa avrebbe deciso Gabrile. Sì, esatto, qua sicuramente le stelle piede debole, mi ha un po' deluso, forse Mkhitaryan ti aspettavi qualcosina di più, l'abbiamo visto abbastanza in ombra, però vedendo tutta la prestazione dei giocatori del Milan, diciamo che non è stato l'unico a deludere. Sì, ha deluso, ma è un giocatore in realtà che non mi aspetto, che verrà usato tantissimo nelle prossime partite, sarà usato magari più anche come mezzala, come il di Natale di Gabri, che di nuovo ancora una volta ha fatto benissimo, nonostante qualche errore nel primo tempo, ma a Gabri abbiamo parlato tanto di Cresi, di cosa ha sbagliato Cresi, Gabri anche ha sbagliato davvero troppo davanti. Sì, decisamente, deve resettare anche lui, praticamente deve entrare nella seconda partita senza pensare di gestire, deve fare una seconda partita ripartendo dallo 0 a 0. Sì, diciamo Doc che deve praticamente lanciare un messaggio, no? A chi lo guarda e dire io sono presente in questa competizione, io devo andare dritto per dritto, non mi gioco più sostanzialmente più di un risultato, solo la vittoria con un gol di scarto. Potrebbe comunque arrivare ai tempi supplementari e poi ai rigori, e invece quello che deve lanciare è sostanzialmente un messaggio anche a Gabri, come per dire tutto è stato troppo facile per te nella prima partita, in questa seconda partita da roba a taglia, no Veno? Concordo a pieno, Sabino deve resettarsi, deve resettarsi Cresi, deve cercare di fare quanto riusci a fare in questa prima partita e deve davvero però immolarsi, perché sarà difficile ribartire il risultato non tanto per il gol, che è solamente uno, ma per quanto visto in campo. Tu dicevi che devono lanciare qualcosa, io invece ne approfitto per lanciare il bellissimo messaggio di Lega Calcio Serie A perché oggi prendervi la terza edizione di Keep Racing Out, la campagna promossa da Lega Serie A in favore della tutela dei diritti umani, in favore della sensibilizzazione degli appassionati di calcio e soprattutto per tenere fuori dagli stadi il razzismo che ormai nel 2022 non si può vedere. E a proposito ne approfitto perché EA Sports in favore di questa campagna Keep Racing Out ha introdotto in game questa bellissima maglietta che vi faccio vedere, l'avrete sicuramente già vista, potete sbloccarla gratuitamente a partire dal 18 marzo, quindi da venerdì scorso, negli obiettivi e potete indossarla nelle vostre partite per contribuire anche voi a questa bellissima battaglia contro il razzismo. Sì, una battaglia contro il razzismo Venom, nel quale naturalmente ci uniamo anche noi per urlare a gran voce Keep Racism Out insieme alla Lega Serie A. Facciamo sentire la nostra voce contro il razzismo. La nostra voce sovrasta l'odio Keep Racism Out La voce della Lega Serie A è di tutti noi, qui caster, pro player e tutto ciò che circonda l'E Serie A Team 2022 sovrasta l'odio contro il razzismo. Ora però, Doc, è tempo di tornare perché c'è la gara di ritorno fra Genoa Esports e AC Milan Clash. Sempre Gabri contro Crazy. Una gara che parte con il risultato dell'andata di 1-0 siglato da Paolo Di Bala al minuto numero 67 dunque Crazy o andrà a vincere con due reti di scarto oppure andrà a cercare i tempi supplementari e calci di rigore. Sì, è una partita che ci regalerà secondo me emozioni diverse. Comunque Crazy deve fare qualcosa di più perché non può più permettersi di aspettare Gabri. L'1-0 l'abbiamo detto non è un risultato così negativo perché alla fine ti permette di giocarti questa partita come se fosse una 0-0. Sai che devi vincere la trasformi da un BO2 a un BO1 partita secca e dici ok io se vinco questa partita comunque mi garantisco almeno i supplementari. Poi se vinco con due reti di scarto invece passa il turno successivo quindi punti solo alla vittoria forse può aiutarlo anche magari evitare i discorsi di gestione. sai su questi giochi abbiamo visto l'anno scorso soprattutto che la parola gestione sul doppio confronto è praticamente impossibile. Ed è partito subito forte il Milan ha avuto quella mezza occasione pochi istanti fa ed ha ancora il pallone tra i piedi con Ronaldinho Barella che apre tutto per Darmian sale dalla corsia di destra il Milan gestisce Darmian con Barella Digno prova a girarsi però c'è il tocco di Chessy che favorisce il ritorno di Ibrahimovic di Natale forse la prima azione orchestrata della Genoa che può partire dalle retrovie Digno cerchio centrale di metà campo c'era lo scatto da parte di un suo compagno non viene esplorato Digno va da Chessy allora ancora il brasiliano tallonato però molto bene da Barella che recupera questo pallone Mkhitaryan ancora per Digno sarà da tornare all'indietro Barella avanza e la Milan va a sinistra da Spinazzola che deve rientrare verso il destro Barella cerchio centrale della campolina verticale cercata e poi si allarga il gioco per Mkhitaryan l'armeno Digno se la sposta Digno fa ballare immediatamente la Samba e la Milan con il giocatore brasiliano tutto da rifare per Gabri perché il Milan dopo 13 minuti ha rifatto l'1-0 è un altro Milan in questo inizio di partita un Milan diverso un Milan trasformato che trova gli spazi in avanti che erano mancati nella prima partita molto più determinato e risetta il risultato ora giocheremo un'altra partita si riparte come se fossimo 0-0 con 75 minuti da giocare Gabri però deve rispondere perché mi sembra abbastanza spento in questo momento sembra proprio far fatica a inseguire Diego in questi 10 minuti aveva concesso anche quella mezza occasione soprattutto non è mai riuscito magari a gestire il pallone forse doveva valutare di provare ad abbassare un pelo il ritmo sappiamo che di solito è Diego quello che tiene il ritmo basso però Gabri a volte ha avuto troppa fretta di dar via il pallone Ibrahimovic verso Digno ancora la pressione sempre con il centrocampo Rossonero a farla da padrone Maldini Barella monologo Rossonero in questi primi 20 minuti di gara il Milan avanti una rete a zero grazie alla rete al minuto 13 di Ronaldinho Mkhitaryan che ha fatto male con l'inserimento precedente con l'Armeno prova a andarsene sulla corsia a destra in questo caso è bravo Teo Hernandez e il Genoa deve farsi vedere in avanti R9 porta su il pallone il taglio per Ibrahimovic Romaldini un grande anticipo il Milan sembra saper fare esattamente tutte le mosse per regolare l'attacco di Gabri in questa partita sì Milan padrone del campo in questo momento col Genoa che sta facendo davvero tanta 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 fatica a trovare gli spazi anche a portare la prima pressione anche in difesa guarda come è cambiato l'atteggiamento dei rosso-blu che fanno molta più fatica a venire a prendere alti i giocatori di Cresi adesso forse questa è la prima azione offensiva interessante però troppa fretta anche questa situazione da parte di Gabri anche perché R9 Moments lo abbiamo visto molto semplicemente nel test che abbiamo già fatto noi da quella posizione lì con quello spazio lì può anche pensare al tiro assolutamente sì e dall'altra parte è un maestro proprio nel cercare quelle zolle di campo per andare a tirare a giro mezz'ora andata 1-0 Milan ricordiamo nel doppio confronto siamo 1 pari al momento fra Genoa e Milan Barella per Ruth Gullit pallone dentro buono per Ronaldo che non ci pensa sul secondo non era facile segnare da lì bravo però Cresi a provarci e direi che stiamo vedendo tutt'altra partita Doc rispetto a quella che abbiamo visto veramente pochi minuti fa sì tutt'altra partita qui era molto difficile cercare la via del primo palo per Ronaldo e il fenomeno vediamo se ci saranno delle modifiche sembra valutare il passaggio al 4-3-2-1 perché effettivamente questo 4-2-2-2 di Cresi sta mettendo tanti in difficoltà il Genoa soprattutto sulle colse laterali visto quanto spazio a Mkhitaryan di far male qui hai visto prova al 4-3-2-1 cambia leggermente le posizioni in campo almeno se lo prepara sappiamo che è molto importante per questi player saper variare non andare sempre sul solito spartito provare qualcosa di nuovo quando vedi che le cose non funzionano vedremo secondo me è di Natale il fattore X per Gabri perché se non riesce a sfruttare intanto fuori subito Ibrahimovic al trentesimo e dentro sempre Di Bala che aveva fatto bene nella scorsa partita lui l'autore dell'1-0 per il Genoa che ora deve difendere su questo corner battuto da Barella con il verso secondo palo Gulita ancora con la torre e Renove può calciare il time ed era verde sulla linea di petto salva tutto il Genoa questo è un gol di Darmian perché qui portiere battuto wow davvero senza parole per il salvataggio di Darmian sappiamo dell'abilità di Cresi su palla inattiva e qua ce l'ha fatto vedere perché era un bellissimo schema per liberare R9 Di Natale è il fattore X per Gabri perché se Di Natale non è in partita in attacco non puoi chiedergli granché dietro e diventa difficile da sopportare comunque un giocatore così perché si Gulita tanto in attacco ma soprattutto tanto anche dietro che si ti dà una mano dietro rischi sempre di giocare in inferiorità vediamo qui Di Bala attenzione Di Natale prova a calciare subito quello che dicevi Doc mettere il ritmo Totò di Natale ci ha provato Di Bala forse gli scambi nello stretto potrebbero riuscire meglio fra Di Bala e Di Natale piuttosto che avere un ariete in mezzo come Ibrahimovic si ha deciso di giocarsela con giocatori sicuramente molto più agili probabilmente vedremo più palloni bassi per provare anche a forzare qua troppa fretta però questi sono errori che Gabri non deve commettere quando recupera palla avere tanta fretta di darla via subito immagino seguiamo questa azione di Ronaldo R9 all'indietro per che si non però viene coinvolto nel triangolo il compagno di squadra attenzione al taglio con Ronaldinho che vorrebbe il pallone e lo riceve in questo momento nonostante avesse tagliato precedentemente Ibra lo recupera sempre grazie all'aiuto di Digno ancora Ibra Digno si può girare non vede la porta Gullit non calcia ma da R9 anche lui non calcia e in questo caso mi sarei aspettato una conclusione nonostante la selva di maglie rosso-blu esattamente il primo tempo della prima partita ma invertiamo le maglie e invertiamo Gabriele Cresi esatto lo stavo pensando anch'io la cosa migliore di questo primo tempo per Gabriele è essere sotto solo 1-0 anche perché l'ultima azione poteva essere molto pericolosa anch'io mi aspettavo forse una conclusione da fuori che stiamo vedendo relativamente poco può essere secondo me anche che non conoscano a fondo le potenzialità di questi giocatori perché chiaramente ha avuto modo di provarli poco perché fidati Sabino abbiamo visto delle compilation di gol da fuori alcuni te li ho mandati anche in privato davvero impressionanti mi aspettavo qualche conclusione in più con Ronaldo e Ronaldinho per ora i player decidono di sfondare centralmente chiaramente sappiamo che gli extra passaggi sono sempre più sicuri dei tiri da fuori però me ne aspettavo qualcuno in più Di Natale deve entrare in partita lui soprattutto in attacco perché può essere il fattore con i suoi inserimenti per andare a sbloccarla perché se non ti dà qualcosa davanti diventa un peso dietro l'abbiamo detto lo ripetiamo credo che la fascia destra quella con Di Natale e Di Bala possa produrre qualcosa anche perché sono quelli più lontani da Maldini Moments che sta facendo delle partite impressionanti Terragiochi contro Coulibaly che è più scarso tra tante virgolette però forse è più superabile adesso c'è Maldini da questo lato occhio che è andato Coulibaly vedremo comunque lancio proprio per Coulibaly che poteva mettersi in proprio e siglare il gol del 2 a 0 bravo in questo caso Gabriel anticipare tutto con la sua difesa calcio d'angolo c'è Barella sempre verso il secondo palo prova ad uscire Mignan anzi pallone corto verso R9 cross dentro anticipo della difesa rosso-blu che prova a ripartire con Di Bala addirittura in funzione quasi da playmaker Turnandes Ronaldinho però tantissime maglie bianche della Milan che attorniano la compagine rosso-blu e recuperano un altro pallone qui R9 però lo butta via Gullit Darmian aspetta il pallone e lo riceve prova ad andarsi nel numero 5 Varato D'O di Natale ancora un passaggio troppo frettoloso recupera però la sfera in questo caso è la Genoa che si pallone gestito ancora verso Darmian ancora che si vediamo se riesce a trovare spazio è la Genoa R9 si gira ancora una volta l'anticipo del Milan davvero molto bene sia in fase offensiva che in fase difensiva Cresi in questa partita si molto bene forse qua ci poteva stare un passaggio morbido da parte attenzione però perché c'è R9 che potrebbe calciare sempre verso il primo palo altra azione per il Milan vicino al 2 a 0 vicino al 2 a 0 io stavo vedendo Frank Cessi guarda quanta stamina ha perso stanchissimo se vedi anche rispetto a Di Natale occhio che quello potrebbe essere un fattore anche perché è l'unico giocatore con vagamente caratteristiche difensive è Barella Gabri non è contento secondo me di come sta andando non tanto per essere sotto perché lo puoi anche accettare di essere in sfattaggio è proprio il modo di esserlo cioè sta facendo davvero tanta fatica sente che i suoi giocatori non rispondono non riesce a creare il gioco che aveva fatto nel primo match e sta diventando una partita molto insidiosa anche perché hai visto qui è Magnon che sta tenendo in piedi il Genoa quindi qua deve proprio completamente resettare e notizia negativa per lui adesso c'è pure da difendere un calcio d'angolo e abbiamo visto quanto è forte Diego Diego che ha sostituito Mkhitaryan con Chiesa e Ronaldinho con Paolo Di Bala quindi due sostituzioni sicuramente offensive per cambiare un po' strategie in attacco da parte di Cresi con la maglia del Milan pallone gestito a calcio d'angolo da R9 verso Gullit pallone verso secondo palo Ibra a 2x2 con Mignano c'era posizione di offside ma Mignano aveva preso anche questa aveva preso anche questo ma mi facevo due domande cioè se non fosse stato fuori gioco c'era da fare due domande alla difesa del Genoa che aveva completamente lasciato solo Ibra sul secondo palo non proprio il cliente medio da lasciare tutto solo in area piccola vediamo se ci sarà la risposta da parte del Genoa che però vedi sempre proprio trovare difficoltà anche a entrare nell'azione guarda come è disposto bene il Milan e quanti pochi spazi va a lasciare sempre a raddoppiare le maglie rosso-blu che però trovano lo spazio R9 non può calciare bravissimo Maldini all'ultimo istante forse l'azione più pericolosa del Genoa arrivata al minuto 66 sì mi aspettavo però un tiro in questa situazione ha provato forse il dribbling di troppo ricordiamo Ronaldo comunque 5 skill 5 più di debole poi recupera il pallone da dove è partita l'azione però Sabino dalla fascia destra dove ci sono quei giocatori che possono far di più ma qua occhio R9 pallone sulla tre quarti ora però deve aspettare i compagni a rimorchio c'è Chiesa servito da Gullit ancora Chico Chiesa prova a andare lui sulla fascia rientra verso destra Spinazzola riceve il pallone ma deve tornare all'indietro con calma cambia il fronte offensivo Darmian Barella si gira bene Ruth Gullit non trova ancora Barella deve tornare a sinistra da Spinazzola che converge verso il centro del campo e lì diminuiscono però le occasioni per trovare l'esterno allora si va in verticale buono il lavoro verso Chiesa non c'è fuorigioco Chiesa si libera del pallone Ibrahimovic Zlatan Zeta punto Ibra c'è il gol del Milan che va sul 2 a 0 grazie allo svedese minuto 74 si ribalta tutto nel doppio confronto dall'1 a 0 Gabri al 2 a 0 Crazy wow qui secondo me c'è qualche problema comunque con i giocatori guarda quanto sono stanchi sembra quasi che che sia a 19 di stamina non può stare in campo in questo momento Frank e sì io adesso mi aspetto Brahim Diaz ma guarda anche Ronaldo sono distrutti i giocatori del Genoa diventa anche difficile immaginare che possano trovare le energie proprio perché sai è così poca stamina anche fisicamente accelerazione così e ne risentono i valori difficile adesso per il Genoa perché soprattutto per quello che ha fatto in questa partita è dura molto dura assolutamente sì e poi è trovato la disamina corretta cioè se negli ultimi minuti devi spingere devi avere giocatori freschi per poterlo fare dall'altra parte invece c'è un Crazy che fa del possesso palla e della calma e della tattica e della tecnica il suo marchio di fabbrica l'istinto di Gabri sta deludendo in questa seconda partita e quanto sta risentendo il Genoa di non aver chiuso la partita nel primo tempo della gara d'andata sì probabilmente ai punti comunque sul doppio confronto meriterebbe ancora più Gabri perché comunque aveva creato tanto però sappiamo che non bisogna creare occasioni bisogna concretizzarle quindi la squadra che sta concretizzando di più in questo momento è avanti sfruttando le occasioni che è andata a crearsi esce di Natale entra Brahim Diaz ultimo quarto d'ora di fuoco in questa gara di ritorno della winner bracket il Milan ha ribaltato come vedete in sovraimpressione 2 a 1 per ora il risultato del doppio confronto il Genoa attacca per trovare almeno la rete che lo porterebbe ai tempi supplementari R9 con l'uscita di Mignan c'è posizione di offside forse il pallone non doveva nemmeno arrivare al fenomeno no probabilmente no era un taglio interessante però era un taglio che era da servire con i tempi giusti qui è andato forse un filo troppo in anticipo e adesso auguri comunque a recuperare il pallone da Crezi Crezi che gestisce il pallone da sinistra a destra e da destra verso sinistra Spinazzola per Ruth Gullit con calma naturalmente il pro player rosso nero che vuol far uscire il Genoa che però recupera subito con Brahim bravo però Spinazzola a tenere il pallone Chiesa Gullit ancora Spinazzola meno 8 minuti più recupero Paolo Maldini per Darmian gestisce il pallone il Milan sulla corsia a destra viene tallonato dai rosso blu che però non ne hanno più perché anche Barella è libero di gestire il pallone verso Coulibaly Marco ora sembra davvero troppo semplice tenere il pallone per il Milan che ora attacca con lancio lungo verso Chiesa non c'è fuorigioco Chiesa dentro l'area non riesce a servire però un compagno dentro ma con calma torna indietro ma con questi livelli di stamina probabilmente il Milan la può tenere tranquillamente fino alla fine della partita perché i giocatori del Genoa non ne hanno più sembrava quasi l'utilizzo di attacco sul lato della palla raro vedere i giocatori così sfiniti secondo me questa partita è finita te lo dico secondo me non c'è alcuna possibilità per il Genoa di recuperare il pallone perché il Milan lo gestisce addirittura con Mignan Polo Maldini fa salire però la pressione del Genoa il Milan anche per poter lanciare lungo e trovare gli spazi con Ibrahimovic a fare da centro boa e attenzione alla verticale verso Chiesa che può partire pallone tra i piedi c'è Coulibaly su di lui Chiesa non va a tirare torna all'indietro un minuto di recupero ormai le speranze sono ridotte il lumicino per il Genoa il Milan stava sbagliando con questo lancio e bravissimo Coulibaly scocca ora il minuto di recupero passa il Milan di Cresi che ribalta l'1-0 dell'andata e il Genoa dunque lo rivedremo domani nel loser bracket sì Genoa-Fiorentina sappiamo già il match quindi vedremo Vergil contro Gabri Gabri che non può essere soddisfatto di quanto fatto in questa partita più che altro perché gli è sfuggita tra le mani perché secondo me rimane il giocatore che ha giocato meglio sul lungo i 180 minuti però non ha concretizzato le sue occasioni contro un giocatore come Cresi ma questo possiamo farlo per tutti quindi questo potrebbe essere lo stesso tema tattico di Bologna contro Salernitana quindi se un giocatore non sfrutta le sue occasioni rischia di perdere contro Chiung perché il livello è talmente alto che non trovi quello che ti perdona magari trovi quello che fa due tiri due gol e vai in loser bracket e rispetto dunque ai pronostici della vigilia è la C-Milan clash di Cresi a passare nel doppio confronto grazie al 2-0 della gara di ritorno Venom può essere questa già la prima sorpresa di giornata si può dire chi l'avrebbe detto era una delle partite di cui parlavamo prima che forse era con un pronostico più orientato verso una delle due squadre e invece Cresi grazie alla sua esperienza grazie alle sue tante partite giocate dal vivo a questi livelli forse oserei dire più di quante ne ha giocate Gabri si è visto è riuscito a ribaltare in maniera eroica forse quasi impossibile la prima partita perché l'abbiamo visto la prima partita poteva essere sotto 3-4-0 è riuscito a tenere anche con un po' di fortuna andare sotto solo di un gol al termine dei primi 90 minuti e la seconda partita è uscito il Cresi che tutti conosciamo 2-0 nel finale poteva anche fare il terzo ha preferito contenere secondo me a parer mio in maniera corretta saggia e adesso si prende il primo posto il primo tassello nella Final 8 si prende la primo tassello ma si prende anche l'intervista con Ludovica Pagani grazie ragazzi esatto io sono qua con Cresi complimenti a te perché hai battuto veramente un bravissimo giocatore allora raccontaci un po' come ti sei preparato per questa sfida ma io Gabri lo conosco da anni perché comunque ha fatto diversi torni internazionali con me e ho guardato un sacco di partite anche per quanto riguarda per poterlo studiare perché comunque sono venuto qui per vincere contro di lui e mi sono preparato al massimo e quindi sono riuscito a sfruttare ciò che comunque lui non riusciva a difendere molto bene dentro l'area non era fortissimo a difendere ho sfruttato questo problema che aveva e di conseguenza sono riuscito anche a segnare due gol hai fatto molto bene quindi hai studiato bene l'ho studiato i suoi frutti allora chiediamo un po' ai nostri caster al nostro rally se si hanno qualche domanda per il nostro vincitore di questa prima sfida Sì Diego ti vogliamo chiedere in particolare cosa hai switchato dalla prima alla seconda partita perché la prima partita non era il crazy che tutti conosciamo e che anche da casa secondo me non si aspettavano un crazy così in difficoltà soprattutto in fase difensiva davanti hai creato qualcosina ma non è bastato la seconda invece è un'altra storia allora per quanto riguarda la prima partita l'ho impostata in maniera totalmente diversa perché comunque giocavo col 4-2-2 all'inizio non mi ci trovavo giocavo troppo alto ho provato a cambiare anche un po' le tattiche diminuendo un po' la profondità ma comunque non mi ci trovavo ugualmente molto probabilmente perché comunque ostava lui e quindi ci sono anche determinate cose all'interno del gioco che chi è osta gioca meglio eccetera eccetera alla seconda partita sono partito col 4-2-1 e ho fatto subito il primo gol un gran gol con l'elastico reverse con Ronaldo il fenomeno e poi da lì sono ritornato a 4-2-2 ma comunque poi mi sono riuscito ad adattarmi ancora meglio durante la partita quindi ho cambiato tanto a livello tattico comunque perfetto grazie Diego e ti chiedo ancora visto che hai detto che hai studiato Gabri adesso un po' di riposo vai subito a studiare le prossime partite per vedere eventuali avversari nella Final 8 non ci si ferma mai cioè bisogna costantemente studiare per poter imparare migliorare perché comunque anche se si arriva alla Final 8 cioè io sono arrivato numero 1 al mondo sui Faventi e devo dire che ho pur sempre imparato anno dopo anno perché comunque non si smette mai di imparare sia su FIFA che nella vita bravissimo un bel messaggio Diego invece una domanda per quanto riguarda gli ultimi minuti di gioco perché il Doc naturalmente non l'avrai ascoltato ma all'ottantesimo mentre avevi il pallone tra i piedi dice questa gara è vinta Cresi col pallone tra i piedi e la stamina di Gabri che era letteralmente a terra tu negli ultimi dieci minuti cosa hai pensato di quella partita hai pensato davvero ormai ce l'ho fatta su FIFA diciamo che è abbastanza imprevedibile questa cosa però comunque a livello di gestione della partita ormai ho imparato un sacco anche per quanto riguarda grazie a Simone Sfolcini che lo saluto che comunque è stato il mio coach e mi ha insegnato veramente tanto gli ultimi minuti su come gestire la partita quindi la maggior parte delle volte in queste occasioni penso sempre di aver vinto poi sono stato anche fortunato con Culli Balic che ha colpito di testa su Ronaldinho al novantesimo che comunque mi ha dato un surplus su questa cosa io ho la domanda cattiva perché sappiamo che durante i reaction show abbiamo sempre chiesto ai pro di farci i pronostici sono stati tutti abbastanza schivi quindi l'unico che ha risposto è stato il buon Diego quindi ti faccio la domanda pronostico delle prossime tre se vuoi darcelo se no puoi anche dire non rispondo no beh sono divertenti queste cose quindi rispondo volentieri la prossima sarà Bologna contro Salernitana io spero per Mattia perché comunque lo conosco da un sacco di anni e se dovesse arrivare avanti come me si forma un po' la storia un po' una scena incredibile perché comunque abbiamo fatto un campionato italiano di FIFA 14 quindi diciamo che siamo qua da anni ormai quindi spero per Mattia e la prossima qual è? Venezia-Torino Venezia-Torino sono due che possono arrivare a vincere il torneo a mio parere ahimè uno dei tre come Danny Pitbull Karim e Obrum non potranno arrivare però secondo me qui Karim vincerà e l'ultima Sampdoria-Inter Sampdoria-Inter molto probabilmente la Sampdoria quindi dico Sampdoria ok contro quindi i cugini nerazzurri non so se Ludovica ha l'ultima domanda prima di salutare comunque il nostro ospite il primo tra l'altro quindi Diego complimenti anche per questo il primo a essere intervistato in questi play-off allora io volevo chiederti se tu ha qualche insomma rito scaramantico magari prima di ogni partita mi sono interessata a questa cosa no no fortunatamente no cioè semplicemente prima appena mi sveglio al mattino mi faccio la doccia cioè ogni giorno faccio sempre la solita cosa mi faccio la doccia doccia poi il profumo fortunato ho il profumo fortunato profumo fortunato vuoi dire qual è? no perché è un segreto se no poi te lo copiano esattamente va bene allora io ti ringrazio ti faccio tanti complimenti in bocca al lupo per tutto grazie mille grazie grazie a tutti